Allora, è stato un anno difficilissimo, ho alternato emozioni diverse, inizialmente non riuscivo a prendere coscienza di quello che mi era successo, quindi i primi mesi sono stati un po', ero veramente scioccata, quindi non riuscivo a fare nulla. Poi pian pianino, con l'aiuto ovviamente di un professionista, sto cercando di elaborare il lutto, di accettarlo e quindi mi sono successe poi delle cose che mi hanno fatto capire che comunque doveva andare avanti, perché il mio analista a un certo punto mi ha detto, Arianna hai due possibilità, o vivere o morire, che vuoi fare? E io ho risposto voglio vivere e quindi da quel momento in poi ho iniziato a vivere. L'ho fatto per i miei figli, lo faccio per i miei figli tuttora e lo faccio anche per onorare la memoria di Sinisa, che era un combattente e che ha amato tantissimo la vita e quindi io come lui sono molto forte, anch'io amo tantissimo la vita e quindi voglio continuare a viverla e ricordare in ogni momento mio marito e portarlo sempre nel cuore. Sinisa è nel cuore di tutti, perché era amato, stimato come professionista, ma anche come uomo, perché era veramente un uomo esemplare, era un uomo che amava la sua famiglia, dolce, ma veramente era un uomo speciale e appunto per questo io voglio ricordarlo sempre, in ogni momento.